Allora, Presidente, stiamo parlando, abbiamo parlato, abbiamo spaziato in vari ambiti, necessariamente, necessariamente, dopo la tensione abitativa, colpa di chi? Dei proprietari, naturalmente. Naturalmente, sì. Per forza di cose. Parliamo anche delle novità che vengono con la finanziaria. Da un lato si parla di cedolare secca per i canoni di locazione breve, e quelli a fini turistici, e dall'altro si parla del 110, che non sarà più così. Che cosa sta succedendo? Allora, mi ricordo che quando è entrata in vigore la normativa sui 110, ormai è passata un pezzettino, ho pensato, chi l'ha inventata, chi l'ha progettata, o è un genio, o è una persona che ha smarito il senso della ragione. Adesso io non voglio trarre delle conclusioni, ma è pur vero che chi si è fidato delle istituzioni si è trovato a saltare un fosso e non riuscire ad arrivare dall'altra parte. Posso riassumere brevemente cosa è successo nei mesi precedenti. Allora, era stata prevista, ma secondo me anche, era favorevole una normativa per i proprietari, perché potevano efficientare l'immobile, coibentando le facciate, mettendo l'impianto fotovoltaico, usufruendo della cessione del credito, era quella la grossa novità. Una volta, quando facevi dei lavori di strutturazione, dovevi avere la capacità fiscale di recuperare dalla tua capacità fiscale i soldi che avevi pagato, quindi pagavi meno tasse e recuperavi. Quella è stata la cosa veramente geniale, a mio avviso. La possibilità di cedere il credito o avere lo sconto in fattura. Quindi molti, visto anche che comunque l'Europa parlava dell'obbligo dell'efficientamento, una cosa e l'altra, si sono buttati nel 110, nella speranza di efficientare l'immobile. Cosa è successo? Che a un certo punto siamo passati dal governo, quello che era col PD e col Movimento 5 Stelle, che era favorevole al 110, al governo attuale che ha detto no signori, stiamo buttando via. È giusto o non è giusto? Ma insomma, stiamo spendendo un sacco di soldi, non ce lo possiamo più permettere. Quindi dall'oggi a domani, nel dicembre del 2022, ha detto entro X giorni, erano 4 giorni, dovete, i condomini devono deliberare di presentare la CILA semplificata, se non lo fanno entro quella data, non è possibile procedere. Laddove con il governo precedente erano stati dati degli spazi temporali ben più ampi. Quindi già lì c'è stata la corsa. Quindi si sapeva che le cose sarebbero finite. Hanno iniziato dei cantieri, avendo presentato all'ultimo momento, e qui ho dei dubbi su se tutte le CILA semplificate, o meglio le delibere precedenti, siano in regola. E lì ci saranno dei grossi problemi, se non sono in regola, perché dovranno restituire il 200% di quello che hanno preso, ma insomma, magari da poi, se vuoi, ne parliamo. Molti, sperando di farcela, sono partiti, credevano che ci fosse una proroga. La proroga non c'è stata, quindi con la fine dell'anno passato, quindi con la fine del 2023, si passa dal bonus, dal 110 al 70%. Con tutte le difficoltà che ci sono in questo momento, comunque accedere al credito per il 2023, perché le poste sembrano non lo vogliono più acquistare. Ma soprattutto non c'è più lo sconto in fattura, l'accessione del credito, quindi... Non c'è più neanche l'accessione del credito. Non c'è l'accessione del credito, perché uno deve recuperarlo con la propria capacità fiscale. Che se non è a capacità fiscale tale da poterlo recuperare, non le compie. E ci sono dei grossi problemi, intanto è che attorno a casa, io ho visto diversi cantieri, adesso si sono fermati, proprio da una settimana a questa parte, si sono bloccati, perché non ci sono i soldi. Ed è stato fatto, perdonami, una specie di sanatoria per il passato, mi spiego meglio. Chi entro il 2023 ha presentato il SAL, il Stato di Avanzamento dei Lavori, e l'ha presentato in maniera regolare, quindi ha mandato dove doveva mandare, adesso non mi ricordo, ha fatto tutto l'iter che andava fatto. Anche se fermi i lavori, e non è in grado di fare il salto di due categorie, perché la condizione fondamentale era che si facessero un salto di due categorie energetiche per ottenere i 110. E quindi si dice, tu hai creduto di potercela fare, non ce l'hai fatta, mai presentato il SAL, entro questa data, fermi i lavori, non ha importanza, comunque hai diritto al 110, appunto per i lavori a SAL. Quelli successivi no. Quelli successivi no. È una specie di sanatoria. Entrano nel 70%? Quelli successivi, se uno ce la fa, entrano nel 70%. Ma c'è una data di scadenza, tra quale comunque devono rientrare al termine dei lavori, oppure no? Quelli per ottenere il 110, per far rientrare il 110? Per rientrare il 110. No, è fino al 2023. E quindi questo è finito? È finito. Quelli che non hanno terminato i lavori, non possono... Passano ai 70%. Ah, quindi se per esempio, per livello pratico, è stato fatto un tetto, coibentato il capotto, ma mancano le finestre, se non sono state messe le finestre nel 2023, le finestre passano ai 70? Le finestre fanno parte dei lavori trainati, adesso qui bisogna capire, perché tu sai che ci sono i lavori trainanti e i trainanti. Ah, quelli principali. Ecco, allora, il condominio delibera sui trainanti, poi sui trainati, che sono infissi, è il singolo che dice sì, no. Ecco, qui andrebbe, letta bene la normativa, ed è dell'altro giorno, mi cogli... Quindi attenzione a questa cosa qua, bisogna andarlo a vedere. Quello che ti dico è questo, facciamo un esempio molto semplice, che sono le cose più elementari. C'è un condominio di tre piani, hanno coibentato solo il primo piano, hanno presentato il SAL per il primo piano, lì prendono il 110, continuano a fare il secondo, il cappotto del secondo e terzo, vanno a finire, e lo fanno, presentano il SAL nel 2024, lì prendono il 70%. Perché il SAL devi farlo mettendo proprio la coibentazione? No, cioè il SAL è quando tu... Avanzamento lavori. Vai, avanzamento lavori, c'entro questo dato, ho fatto questo, poi... E quindi gli altri, diciamo, quelli del secondo e del terzo, nell'esempio che fa, restano un po' con la mano in bocca. No, stiamo parlando di un condominio, quindi... quindi viene diviso tutto. Sì, tutto viene diviso tutto. Allora, secondo me, nascerà una marea di contenziosi, cioè veramente, le cose purtroppo sono state fatte veramente male, per quello ti dicevo che... Allora, chi l'ha progettato, come dicevo, era un genio, era una persona con dei problemi, ma la gestione successiva è stata catastrofica. Cioè, allora, all'inizio, perché, ad esempio, noi come confidilizia dicevamo, fate... approfittate del bonus cappotti, perché il 110 è complicatissimo, tant'è che non partivano i lavori, perché bisognava dimostrare che gli immobili erano in regola, ma per andare a prendere la documentazione in comune ci vorrebbero dei mesi. Poi la normativa è cambiata 17, 18, 19 volte, non la ricordo più, quindi non riuscivamo più a starci dietro. Poi mi dicevamo che partano questi lavori, e l'hanno disposto la cilla semplificata, per cui non era più necessario dimostrare che gli immobili non avevano delle irregolarità, pena la perdita dei bonus. Quindi da quel punto sono partiti tutti, ma c'è stato il famoso imbuto, si sono bloccati e quindi ci sono talmente tanti problemi che veramente sarà un contenzioso, perché poi alcuni hanno fatto fare il progetto, poi c'erano molti appalcatori che arrivavano, mettevano la gru, mettevano l'impalcatura e prendevano via, perché prendevano il posto intanto. Adesso non sono più in grado di proseguire e allora i soldi dell'impalcatura chi gli danno non gli danno, cosa previsto è contratto, ci sarà da lavorare come avvocati. Buona pace degli avvocati, questo sì. Allora, dopo altre questioni che emergeranno magari ne affronteremo anche in proseguo di tempo, quindi l'importante è aver fatto centro su queste che sono le questioni fondamentali, magari una prossima volta parleremo degli affitti di locazione turistica che interessano anche... Tra il male assoluto sono il più assoluto dei mali. Il più assoluto dei mali, quindi, mamma mia. Noi le ringraziamo del Stato che con noi. Mi permetti, scusa? Sì, assolutamente. Ah, giusto che ci sono poi di un pubblico. Appunto, siccome faremo dei convegni a breve, dove verrà giù il professor Lottieri che parlerà del suo libro anche La proprietà sotto attacco che è molto interessante, è un pamphlet che si legge ma è molto interessante, è molto veloce. E poi, noi come Confidilizia pubblichiamo anche diversi libri tra cui quello che è più interessante in questo momento è La proprietà dei suoi nemici. E appunto, invito la gente ad associarsi perché di questi incontri ne facciamo parecchi quindi oltre alla consulenza come dicevo prima trattiamo la parte culturale che secondo me è fondamentale per capire la direzione nella quale stiamo andando. Presidente, grazie mille di averci informato su tante questioni importanti. Voi cari telespettatori avete visto è possibile avere delle consulenze specifiche sono significative per non sbagliare perché le conseguenze purtroppo dopo sono gravi e si ripercuotono nel tempo. Seguiteci ancora noi ci rivediamo grazie di essere stati qui con noi e buon proseguimento sul canale 19. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.